Since we made it possible è sostanzialmente ciò che Lamborghini rappresenta. Abbiamo reso possibili progetti e realizzato vetture che fino ad allora sarebbero state impossibili da pensare e Urus è un altro esempio di come Lamborghini approccia le proprie sfide rendendo possibili qualcosa che tutti gli altri ritengono impossibile. Rule breakers, innovators, challengers, questo è quello che Lamborghini è da sempre, è il nostro DNA. Non abbiamo mai avuto paura di affrontare delle sfide partendo da Miura, arrivando a Countach e passando per LM002. È la strada che ci sta portando a questo lancio del 4 dicembre di Urus, quindi siamo perfettamente in linea con quello che è la nostra storia e che caratterizzerà sempre il DNA di Lamborghini. Grazie a tutti, grazie a tutti.